Quale compito spetterà il nuovo governo regionale nella fase di attuazione della legge che trasforma le province? Un tempo si diceva che questa è una domanda da un milione di dollari, oggi dovremmo dire che da 10-15 milioni di dollari. Io farò outing, personalmente sono contrario all'abolizione delle province e sono tantissimi i colleghi che sono come me contrari. Un conto è ridisegnare i perimetri delle province attuali, un conto è fare il mea culpa, cospargersi il capo di cenere per aver creato nuove province, in Piemonte non meno che da altre parti, altro è negare tuttavia l'esigenza, l'utilità e forse la necessità di un ente intermedio di governo, di dimensione sovracomunale e subregionale, di cui ci sono esempi importanti in rilevanti paesi europei, dalle contee in Gran Bretagna, ai circondari in Germania, ai dipartimenti, anche se non sono soggetti del governo locale in senso stretto, in Francia. Ora, al momento, la legge, mi sembra, 56 del 2014, ha un effetto, per così dire, di stabilizzazione delle attuali competenze. Ritornando alla prima delle domande fatte, relativamente all'ambiente, in ambito locale le province sono i fondamentali soggetti di pianificazione ambientale. Oltretutto, l'abolizione delle province, ovviamente, non può portare alla cancellazione del personale delle province. Quindi, in realtà, noi avremmo trasferimenti da un ruolo a un altro, da un soggetto ad un altro, e anche trasferimenti o assorbimento di competenze da un soggetto ad un altro. Io credo che, al momento attuale, facciamole lavorare, facciamo fare loro quello che è la legge intermedia. Da qui alla revisione costituzionale, affida loro come compiti strategici, compiti che la legge impone loro di fare. E poi, forse, sarebbe il caso, questo a mio avviso, di fare un'attenta riflessione sulle province stesse e la loro collocazione nel sistema cosiddetto di governance multilivello del nostro Paese. Ora, è ovvio che nel momento in cui si arrivasse a questa soppressione, e questo è il dato di fatto, ovviamente questa sarà una emergenza, perché si tratterà di una vera e propria emergenza che, per essere messa a regime, richiederà un bel po' di tempo, dovrà essere così opportunamente ed efficacemente cavalcata dalla Regione, da ogni Regione. Nel momento attuale, come step intermedio, io credo che null'altro si possa fare se non quello di lasciare fare alle province ciò che esse debbono fare, senza magari incrementarne i compiti, perché è ovvio che non sapendo quale sarà l'esito finale di questo chiacchiericcio che si fa sul piano costituzionale, è ovvio che mi sembrerebbe non ragionevole in termini di politica corretta, di gestione corretta, vorrei dire quasi di analisi economica del diritto, quello di conferire alle province nuove attribuzioni in questa fase di pendenza del loro ruolo.